Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Matteo, dai! Fube, cosa fai con una tippa che non è la tua ragazza? Cosa fai Fube, ma perché non c'è Mattilli e c'è quella ragazza lì? Bravo, bravo Fube, ma cosa combini scusa? Fube? Bravo Bravo Fube? Fermati! Non so controllare Vabbè, vi devo dire una cosa stra importante L'altro giorno mi son messo due dita nel culo e puzzavano di merda Ma cos'è che dice Mattilli? Vabbè, niente Vabbè, volevo solo farti entrare due secondi Virginia, però vai tranquilla Ciao 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 Grazie Ciao Arrivederci Bentornati nel programma di oggi Siamo qui per coinvolgere insieme a voi chat e insieme a voi comunque party in... Mi faccia gentilmente parlare Ragazzi, siamo arrivati alle 3 di notte Io vi mando un bacione Non ci vediamo domani sera in diretta ragazzi perché ho un evento Ma ci vediamo giovedì sera in diretta che c'è una sorpresa E poi venerdì sera che ci sarà una bella live Sabato sera non ci sarà la diretta Domenica sera ci sarà la diretta E così via ragazzi Io vi mando un bacione Io ragazzi vi mando un bacione Che muri fai? Sei pronto? Se ci arriviamo dopo Hai scritto alle persone regioni? Quale è la tua storia? Come sei nato? Sono nato con la testa Cioè sono uscito con la spalla, non con la testa Io E mi ha rotto la spalla Veramente? Sì 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 Infatti ho avuto bellissimi messaggi Quando tipo Ma sei nato prematuro? Sono nato con la testa a pera io Non sono nato prematuro Sono nato con la testa a pera Infatti ho usato la testa a pera per diversi anni Come fa Alexi? Ma sei sicura dopo di voler usare gli stessi trucchi? Cosa? Sei sicura di voler No, 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 no Candelina Non ho mai avuto una Vorrei andare a hit bro rimettilo Rimettilo Ma hai capito che hai fatto la hit dell'anno? No, bro Ah, scusa Ce l'hai sentita? Segui di tu Io vorrei rivedere il bod Posso rivedere il bod? No, fermi un attimo Possiamo rivedere il bod Alexi? Rigeneratemi la clip di Alexi che Ci stanno entrando in studio Comunque c'è arrivato un messaggio importante da Sandro Tong Nonna voglio fartelo sentire un attimino Possiamo? Aspetta Pronta? Bomba? Porco Dio, porco Dio Pronti? Ma dov'è? Uno, due Dove sono andati? Ma che cazzo? Che cazzo? No, no, ero a fianco a me, te lo giuro Ma per lo giuro non esisto? Sì, sì, ci stai Ho sognato la polizia Dove me lo metto sopra? E c'è il culo? Ah, pure questa! E invece mettono la, invece lo mettono qua Non ci stavo dietro Abusato! Stavo stati a chiedere, stavo spronto Fermi un attimo Ma chi c'ha fa cosa? Ti sei visto al culo, vicina? Non è vero Sì Ti sei messa lì per vedere tutto sotto? Non è vero Sì Hai fatto bene tutto Si senti? Sì, vabbè, ma chi è? Ma non riesco a andare a parlare, non c'è Eh? Riesci a spegnere? È davanti in tic, è una rocca Non è fatto un disastro Fran c'è? Ragazzi, mi ha tutto Il parquet E poi l'altro È il tuo passaggio È arrivato una macchina in tuffo Ah, no, no Ma l'è Ma lì, ma lì Ma lì, ma lì, ma lì 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 Ma lì Ma lì, ma lì Cornuta Quante cornucce hai visto? Senti, ma Come? Come fare, zì? Come? Porta rispetto a Virginia Se ti lascia piangi per due anni Ciao, fu benasone Tua madre è morta Come fare, zì? Mi sai direi sempre? Com'è che hai detto a lui? Come francese? Ma non stai bene? Lucrezia non parla Ha detto Come mi tratta il rosso Non mi fa venire voglia di parlare Dovresti Posso dirti? Prendiamoci questi cinque minuti Allora, ferma un attimo Ma Borro, non vai in studio oggi? Stanno andando adesso Infatti, ciao, dai Vabbè C'è anche Villano, eh Veramente è una follia Vabbè Ciao Tello Ci vi chiamo Mi è addormentato Dove neanche andare Male, eh Dai, ciao Tello Ciao Tello Saluta a tutti Saluta a tutti Ciao Tony Grazie mille Un bacione, Tony Grazie a voi Faccio io, vai tranquillo Oh, Mata Not tu C'è un incontro importante per te Ma prima è questa Ma prima è questa Ma prima è questa Vuoi? Oddio, che bello Fa troppo freddo Andate pure in cucina Ciao, benvenuti Nella mia casa E no E no Non è, non è Totorina Mio nonno Che simile bomba Facciamo scendere anche mia mamma Per favore Regia Regia, mamma Scrivi pure Ok, sta per arrivare Sta per arrivare anche quella sorcola Quella bella porca Che fama Tutta porca Io? Nonno, parla un attimo Di se si sente Ah, di vendetta Un attimo Impazzita Comunque è me di bene Pancio, per favore Adesso, un discorso Un attimino Eh beh, ho capito Sono due ore che la vedo lì Dico, brava Allora Ti hai cercato molto bene Stai bene Era proprio quello che lui intende Allora, immagino No, allora, guarda Pancio A parte le cazzate A me dispiace So che sei stata la prima persona Che Con tutte queste nove Che chiedono sempre Quando troppi Come stai? Parla Adesso che me l'hai chiesto Tipo, la verità sto molto meglio Nessuno me lo chiedo ultimamente Vogliono sapere Quanto guadagno Quello che faccio nella vita Ma nessuno è interessato realmente a me Nessuno Ma nessuno E' tranquilla Porca Dio Mi hai fatto morire Mi hai fatto morire Strosso Vaffanculo Ma che cazzo mi hai spaventato prima tu Perché non l'avevo mica visto io Mamma che spavento Addio sbocco adesso Io non ho capito il senso Io non ho capito il senso di questo